Cioè nei bambini che non possono essere vaccinati, questo liberi tutti, cioè il fatto che non si portano più mascherine, ha portato a aumentare di 15 volte le strutture sanitarie necessarie per curarli. Ma è la variante Delta che colpisce soprattutto i bambini, perché prima i bambini non erano così colpiti. La variante Delta è più contagiosa, colpisce tutti e quindi colpisce anche di più i bambini. Con la variante Alpha i bambini erano meno contagiati perché la variante Alpha era meno contagiosa. Con questa è praticamente, lo dicevamo l'altra volta, in un ambiente chiuso, un soggetto non protetto che sta a contatto con un soggetto infetto, prima o poi se la prende. Allora ci faccia capire, per rimanere sempre nell'ambito della scuola, poi vedremo tutta la questione della famosa terza dose, in quali paesi si fa e perché questi paesi hanno deciso di farlo. Ma rimaniamo nella scuola. Poniamo il caso in cui appunto i ragazzi non sono tutti vaccinati, speriamo di no, ma insomma in una classe. Gli insegnanti e il personale HAT e il personale di servizio invece lo sono, si potrà in questo modo garantire...